Ma buongiorno! Benvenuti a Mattina 9! Eh sì, noi a Mattina 9 siamo già carichi, prontissimi, perché molti gli ospiti che verranno qui a Mattina 9 per raccontare delle esperienze, ma soprattutto per dirvi cosa, Claudio? Diccelo tu cosa ci diranno. Abbiamo un'agenda oggi veramente fitta, fitta, fitta di appuntamenti. Partiremo dal teatro, però quello colto, quello vero, quello impegnato, perché avremo con noi in studio un magnifico interprete della recitazione, Roberto Azzurro, che ci parlerà di uno spettacolo che andrà in scena al Teatro Elicantropo, che parte tra origine dall'omonima opera letteraria di Maglio Santanelli. Insomma, ne parleremo insieme qui in studio e Mariù, attenti, resterà tanto, perché ti piace tantissimo il teatro. Sicuramente da vedere. E poi passeremo alla politica, avremo con noi in studio un esponente importante del Partito Democratico, Antonio Marciano, che ci parlerà delle ormai imminenti elezioni primarie all'interno dello stesso partito. E poi, Mariù, un ospite d'eccezione, un cooperante internazionale che ci porterà con lui in giro per il mondo attraverso le pagine del suo libro, un ragazzo napoletano che ha realmente vissuto qualsiasi tipo di esperienza. Poi, naturalmente, l'angolo della bellezza e infine la cucina. E quindi rimanete qui con Mattina 9. Non potete perdervi quest'altro appuntamento di oggi. Adesso la sigla e poi Mattina 9 con noi. Ciao! 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 Ciao!